Se state avendo problemi riguardo alla connessione di rete ovviamente se vi state connettendo poi si disconnette, si connette, si disconnette quindi in questo caso quando accende il pc non si connette la connessione di rete quindi è possibile risolvere facendo un ripristino e cancellando le cache sui server DNS della rete e basta. Quindi in questo caso possiamo andare direttamente sulla pagina di problemi quindi scrivi qua sopra problemi ti uscirà impostazioni risoluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi e andiamo a vedere qual è il problema sulla nostra rete e internet. Una volta rilevato il problema possiamo andare avanti con i passaggi quindi facciamo esegui su rete e internet. La scheda di rete e internet è disabilitata ovviamente è possibile che la rete si disabiliti da solo quindi è disabilitata da sola la rete quindi va abilitata. Se non è questo il problema va riavviato il computer oppure va riavviato il modem. Usa il ripristino della rete in questo caso per ripristinare la tua connessione di rete basta andare direttamente su tasto destro qua sopra impostazioni di rete e internet impostazioni di rete avanzate scendi fino a giù fino a trovare il ripristino della rete. Puoi provare direttamente a ripristinare la tua rete quindi in questo caso la ripristino è come se la usassi per la prima volta la tua connessione internet quindi una volta ripristinato il pc verrà riavviato. E poi devi reinserire la password se è così devi reinserire la password sulla tua connessione wifi oppure usare direttamente un cavo ethernet che è molto meglio della connessione internet. Quindi vado su impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate la mia connessione che uso spesso wifi la scheda di rete e poi la ethernet e il cavo lan abilito questo. E ritorna così la mia rete e posso accedere a internet. Se non funziona puoi provare direttamente a usare questi comandi qua ovviamente vanno eseguiti in ordine quindi vai a scrivere cmd prompt dei comandi esegui come amministratore il prompt dei comandi facciamo sì. Ora inseriamo in ordine questi comandi perché ovviamente quando arrivi a questo passaggio qua si disconnette la rete e per farla riconnettere di nuovo devi inserire questo comando qua. Quindi facciamo copia, inserisco questo comando e faccio invio. E' necessario riavviare il computer per completare l'operazione ovviamente. Ora inseriamo il secondo, controllo V e facciamo invio, inseriamo il terzo comando, faremo direttamente un ripristino della rete, svuotiamo le cache, facciamo un ipconfig vcdns quindi anche questo di svuotare le cache. dns svuotata, ipconfig come ho detto se uso questo comando relays si disconnette la rete. La rete si è disconnessa, inserisco di nuovo la rete. E come ultimo comando inserisco questo. Riavviare il computer per completare l'azione. Una volta fatto fai exit. Chiudiamo tutto. Sei connesso a internet. Abbiamo risolto il problema della rete. Tasto destro sopra su impostazioni di rete e internet. Impostazioni di rete avanzate. Vado sulla mia rete, modifica, protocollo internet versione 4, tcp ipv4, ottieni, indirizzo, server dns automaticamente. Oppure potresti usare i server dns del cloud flare quindi vai a scrivere 1 1 1 1 1 0 0 1 e fai ok. E facciamo ok. Molto fatto. Passo adesso su start, gestione dispositivi. Ora andiamo così a prendere i nostri dispositivi per connetterci così alla rete. Rete internet, la scheda di rete e questo qua invece è il cavo land che sta nell'uscita della scheda madre. Quindi se c'è un triangolino giallo qua vicino devi disabilitare il dispositivo o disinstallarlo e poi riavviare il computer. Oppure semplicemente aggiornare i driver. Cerchi i driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili. Quindi se si disconnette da solo vuol dire che c'è dei driver obsoleti e la rete si disconnette perché non funziona. Assterisci questo, quello che ti dà quindi il primo modello fai avanti e installi. Stessa cosa anche con la scheda di rete o cavo land quindi come vuoi procedere tu. Questi due qua. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.